Scomparsi tre maialini ibridi di cinghiale, questo l'appello lanciato da alcuni volontari. Si tratta di tre cuccioli scomparsi la scorsa settimana in località San Cipriano, nel comune di Cavriglia. I tre maialini hanno circa quattro mesi, erano tenuti nel bosco in una situazione non regolare nei pressi del campeggio del lago, assieme alla mamma. Chi li avesse visti trasportare o scaricare o avesse informazioni su dove possano essere, può contattare la polizia municipale di Cavriglia al numero 055-9669-724 oppure l'associazione Vita da Cani che sta già seguendo il caso e che ha chiesto di poter accogliere cuccioli e prendersene cura assieme alla mamma al 333-3266-227.